ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube andiamo a vedere questo pane questo video di questo pane senza impasto seguitemi ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube questo è il mio lico li vedete l'ho rinfrescato è cresciuto di volume quindi è pronto da usare allora farò questo pane senza impasto questa pagnotta quindi ho pesato la farina in questo caso userò soltanto la farina di tipo 2 sto usando la pedra ci verso sopra i licoli lo peso 75 grammi ecco qua ok questo lo metto da parte e poi lo rinfresco di nuovo allora adesso ci metto l'acqua un po d'acqua adesso ce ne metto un po poi ci metto il resto e giro così semplicemente con un cucchiaio allora diciamo che sul mio canale ci sono credo un video o forse due di pane senza impasto qui seguendo io seguo seguo molto fulvio marino quindi lo se l'ho visto magari ho visto fare questo questo pane però naturalmente ho personalizzato un po il procedimento cambiato giusto qualcosina e poi non ho la sua farina perché lui usa come sapete la farina marino molto buona l'ho usata anch'io però non ce l'ho sempre disponibile quindi ho cambiato giusto qualcosina lui mette anche l'olio cosa che io di solito non faccio al pane però questa volta farò come ha fatto lui allora sì bisogna girare diciamo con il cucchiaio però qui io ho usato un pochino la mano ma poco è giusto per per amalgamare bene gli ingredienti quindi non è che sono stata lì ad impastare l'impasto deve rimanere grezzo così quindi ecco un pochino così con la mano e basta e poi lasciamo questo impasto così come grezzo ecco qua adesso mi fermo e lo copro e lo metto in frigorifero quindi io l'ho lasciato tutta la notte la ricetta parla anche di 24 ore ma mi sembrava un pochino eccessivo io l'ho lasciato 12 ore poi l'ho tirato fuori l'ho tenuto un'oretta a temperatura ambiente e adesso procedo è un pane molto semplice da fare e la farina comunque se usate un altro tipo si può usare anche la 2 ma comunque le proteine questa ad esempio anche se è una tipo 1 di proteine ne ha 14 quindi va bene per una lunga lievitazione altrimenti accorciate i tempi di lievitazione però certo vi cambia vi cambia la ricetta allora come avete visto ho fatto delle pieghe così molto velocemente sul piano di lavoro e adesso lo metto a lievitare e lo lascio lo lascio fino a che non aumenta di volume fino a che non arriva al bordo quindi ci vorranno l'incirca tre ore perché sta facendo anche abbastanza caldo e credo con tre ore ce la facciamo bene a dopo eccoci qua come vedete l'impasto è arrivato quasi fino al bordo è pronto da infornare è molto morbido è perché anche se l'idratazione ho messo 350 è il 70 per cento sulla farina l'idratazione però poi c'era il licoli che era molto molto liquido come sapete e quindi sta intorno ai 75 per cento si era anche attaccato un pochino vedete sopra si si è un pochino allargato quando l'ho girato ma adesso vediamo sul forno dentro il forno sicuramente si riprende il forno è già acceso a 250 è caldo faccio giusto due tagli così attorno perché non si taglia bene come vedete forse dovevo anche infornare un pochino prima quindi regolatevi regolatevi ecco qua comunque si sta alzando poi una volta infilato dentro il forno ho messo il vapore la funzione del vapore con due spruzzi e faccio cuocere dopo 20 minuti abbasso a 220 poi abbassa ancora ed ecco qua la pagnotta pronta bene come avete visto è stato molto semplice fare questo pane adesso vediamo com'è all'interno anche se ho aspettato un pochino però ancora leggermente tiepido sapete che il pane si taglia da freddo ed eccolo qua beh io direi che va bene per non aver lavorato molto non aver fatto pieghe cose varie è molto bello non è altissimo però va bene così fuori è croccante e dentro è morbido eccolo qua bene amici vi ringrazio della visione ciao a tutti vi invito come al solito a condividere il video a lasciare un like e a cliccare sulla campanella così riceverete le notifiche dei miei video ciao a tutti ci vediamo al prossimo ciao 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 a tutti